A poco meno di sei mesi dall'insediamento della nuova amministrazione comunale, il sindaco Mario Pardini distribuisce ulteriori deleghe ad alcuni assessori della sua giunta. Dopo le nuove competenze assegnate in occasione dei primi 100 giorni al governo di Lucca, il primo cittadino con decreti firmati questa mattina ha provveduto ad investire di nuove mansioni quattro assessori. A Simona Testaferrata, che aveva già le competenze su istruzione e scuole, si aggiungono le delega alla famiglia, alla natalità e alle pari opportunità, che era rimasta finora non assegnata. A Mia Pisano, assessore alla cultura, è stata affidata anche la delega ai musei. Il sindaco ha destinato all'attuale assessore al commercio e alle attività produttive Paola Granucci anche la delega al decoro urbano. A Cristina Consani, infine, che alle delega all'ambiente e ai rifiuti, tocca la delega alla tutela e al benessere degli animali.